Sicuramente sarà diverso, sarà vissuto in maniera un po' più fredda, un po' più asettica Personalmente lo avrei rimandato, però a volte non sempre è possibile In Comune a Vicenza sarebbero stati 23 i matrimoni di maggio, mese ideale per sposarsi e che invece si sono già ridotti a 15 8 al momento le disdette per le note restrizioni per coronavirus Una festa importante, solitamente pura affollata Abbiamo delle prenotazioni di questi matrimoni che sono già stati fissati C'è qualcuno che ha indicato anche un numero importante di invitati Chiaramente se permarranno queste restrizioni dovranno organizzarsi in modo diverso Quindi partecipare con i genitori, con i testimoni che sono obbligatori e rimandare i festeggiamenti con gli altri invitati in altra sede non so dove Perché se verranno mantenute queste restrizioni neanche i ristoranti potranno prevedere importanti numeri di persone Ad aprile erano stati annullati 4 matrimoni su 12 Per gli aspiranti sposi di maggio a prevalere ancora l'incertezza Oggi c'è un'incertezza che coincide con la data del 4 maggio Dopo il 4 maggio sapremo se saranno confermati il divieto degli assembramenti e in che misura Quindi probabilmente aspetteranno anche di organizzarsi dopo il 4 maggio e dopo la pubblicazione di eventuali altri provvedimenti Grazie